Si è conclusa la dolcissima tre giorni di Ciocco Pesaro che nelle weekend appena trascorso ha apparecchiato in Piazza del Popolo stand di eccellenze cioccolatiere proveniente da diversi parti d'Italia. Una kermess conclusa ieri con la creazione live di un cioccolatino dedicato a Pesaro Capitale della Cultura 2024. A crearlo il maestro cioccolatiere Paolo Staccoli dell'omonima pasticceria di Cattolica. La sinfonia è il nome del cioccolatino che abbiamo creato apposta per Pesaro Capitale della Cultura 2024. È una pralina particolare a forma di pianoforte, questo perché vogliamo legare la cultura alla musica che è molto importante qui a Pesaro. Abbiamo creato due ganache all'interno, cioè due camicie all'interno per strutturar meglio la pralina. Abbiamo creato all'interno una ganache invece con un vino di visciole e delle visciole perché fanno parte di questo meraviglioso territorio. Alla fine abbiamo impresso sopra il cioccolato bianco il logo di Pesaro Capitale della Cultura 2024 e quindi il cioccolatino è secondo me bellissimo, buonissimo e parla tantissimo di questa città, di questo evento spettacolare che avremo nel 2024.